23 settembre, buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV Occhio e Giornali che si apre al mattino in diretta alle 7.30. Tra poco sfoglieremo sul nostro touchscreen il Corriere Adriatico ed il resto del Carlino. Prima però diamo un'occhiata al calendario, molti sanno già che oggi, 23 settembre, è un santo famosissimo e amatissimo da tutti noi. San Pio da Pietralcina, Francesco Forgione, padre Pio, questo era il nome da religioso, nacque a Pietralcina, Benevento, il 25 maggio del 1887, morì nel 1968 ed è stato canonizzato nel 2002. Il sole è sorto alle 6.56, tramonterà a 4 minuti dopo le 19. E adesso andiamo sul nostro sito internet, occhioallanotizia.it, sempre aggiornato naturalmente, e queste sono le notizie in apertura, ma voglio andare come sempre a vedere e a dare uno sguardo alle previsioni del tempo che avete. Innanzitutto lo vedete sulla parte destra del teleschermo come riquadro con tutta la settimana fino a mercoledì 28, vedete il tempo sarà più o meno stabile con sole o qualche nuvola. Ma l'altro bottone che volevo segnalarvi anche questa mattina è quello con la scritta Meteo, dove cliccandoci entrate nella pagina del nostro osservatorio meteorologico. È una stazione meteorologica che noi abbiamo installato sopra il tetto della nostra emittente televisiva e che ha la possibilità di registrare alcuni dati, per esempio la temperatura, il vento, le precipitazioni, la pressione e quant'altro. Allora diamo uno sguardo, la temperatura alle 7.32 di questa mattina è di 10 gradi, quasi 11 gradi. Il tempo, fotografato in tempo reale, in realtà, ma eccolo qui, vedete una fotografia che ci mostra comunque un cielo assolutamente sgombero dalle nuvole. Abbiamo anche la telecamera invece che punta sul centro storico, dove in questi giorni si stava svolgendo la festa dei fiori. Questa invece ha una telecamera proprio in presa diretta, vedete proprio il movimento fluido delle auto in basso al centro del vostro televisore. Si tratta del pincio di Fano e il cielo anche qua, vedete, è assolutamente il classico cielo settembrino con appena appena un po' di velatura ma che non si percepisce. Stamattina il tempo è bello, avremo cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime in diminuzione, le temperature massime invece saranno stazionari oppure in lieve aumento. Questa è la giornata di oggi. Domani, sabato 24, cielo parzialmente nuvoloso per nuvole stratificate, temperature in lieve aumento in particolare quelle minime, quindi della notte. Domenica, domenica avremo sole sulla nostra costa, parlo nostra inteso come provincia di Pesaro e Urbino, chiaramente il cielo sarà dunque sereno o poco nuvoloso, le temperature in lieve aumento. Avremo condizioni dunque stabili e soleggiate almeno per la prima parte della settimana prossima, quindi fino a mercoledì. Allora, adesso andiamo a leggere velocemente i titoli dei giornali, i titoli più importanti. Cominciamo dalla pagina di Fano del Corriere Adriatico, si parla ancora della Carifano, Carifano che lascia la città, in qualche modo con il nome che lascia la città, 167 milioni persi, Tombari uscì 5 anni fa, l'unico legame con il territorio lesta, la fondazione che azioni Creval, non abbiamo ancora deciso, dice Tombari, il presidente della fondazione, non abbiamo deciso nulla, io sarei orientato a confermare comunque la partecipazione, la banca Carifano ha pagato un alto prezzo alla crisi economica avendo accumulato negli ultimi 4 anni perdite di esercizio per oltre 167 milioni di euro. Nel 2011 complessa operazione ha lasciato un socio unico, il 28 ottobre ci sarà un'assemblea. E chi subentra, dice il sindaco di Fano Massimo Serio, un po' preoccupato per questa cosa, ma non più di tanto, perché dice chi subentra continuerà a stare vicino alla città. Per il sindaco chi specula non ha nessun rispetto della verità. E questa è la pagina di Fano del Corriere. Andiamo sull'altra pagina, ecco qua, la notizia del saccheggio su nove barche ormeggiate al porto canale di Fano, saccheggiati nuove fuori bordo, razzia alla darsena borghese, da oggi da ogni barca è stata asportata la plancia di comando. Valore 9 mila euro all'opera per almeno due ore, una banda esperta con l'ausilio di un furgone, i pezzi destinati all'estero. Bocchini della Lega Norale dice hanno operato indisturbati, era già accaduto, serve un'adeguata illuminazione. Morto per overdose, tre denunce, bar del centro chiuso per due mesi, ricostruita la rete dello spaccio, sono stati identificati numerosi consumatori tra i 20 e 40 anni, sono stati scoperti dunque gli spacciatori che avevano venduto la dose fatale per Massimo Sabattini, gli agenti del commissariato di Fano dopo mesi di indagini sono riusciti a rintracciare tre responsabili che avevano ceduto la dose mortale al Fanese. Accertato il consumo di cocaina di gestore e clienti all'interno dei servizi igienici. Ecco perché questo bar del centro è stato chiuso per due mesi. Accampamento nell'area Sosta dei Camper, sette rullotto ormai stanziali, residenza concessa a una famiglia, denuncia di Tarsi, stiamo parlando dell'area Sosta Camper che si trova in Via Kennedy, vicino al cimitero, dietro il cimitero centrale. Ancora iniziative fanesi, si fa un bilancio di quella che è stata l'estate di Fano, segna 80 mila presenze, tutte le manifestazioni, l'estate orchestrata dalla Proloco, ha regalato eventi per ogni gusto, dalla cultura al divertimento. Il sindaco dice numeri da record in termini di affluenza, soprattutto nel mese di agosto. Poi un'iniziativa dell'attore dialettale falese Filippo Tranquilli, nuova interpretazione per lui, si parte dalla Rocca Malatestiana, Filippo Tranquilli si vestirà i panni di Vitruvio. Andiamo adesso invece sulla pagina della Valle del Cesano. Eccola qua, da Marotta, questi cartelli, ve li faccio vedere con la fotografia, questo cartello ha fisso, scritto a mano e ha fisso su un albero, se vedo un cane sciolto, vi sparo dal terrazzo, non voglio la vostra merda, puntini puntini. Ecco, questo è il messaggio sul quale indagano i carabinieri. Sgomento al parco, appesi agli alberi, messaggi contro chi lascia sporco, il popolo social si divide tra chi è favorevole, chiaramente non certo all'uccisione dei cani o dei padroni, insomma, ma comunque è avvenuto a Marotta, in via Terni, nel parco pubblico all'angolo con Viale del Repubblica. Tutti i dettagli sul giornale di questa mattina, ciclabile, Fano Senigallia invece è tecnici già al lavoro, il gruppo formato dai tre comuni partner verificherà il territorio. Scuole, asfalti, giardini storici, pergola, un restyling da record. L'assessore Castratori dice siamo il terzo comune nelle Marche per lavori sulle strade. A Senigallia mancano i professori, uscite anticipate, folle e spintoni per salire sugli autobus. Bulletti in azione al campus. L'azienda dice orari diversi, purtroppo a nostra insaputa. E adesso invece la pagina di Fossombrone del Corriere Adriatico. L'articolo 32, questa cooperativa festeggia due candeline, l'obiettivo è ampliare i servizi, la cooperativa festeggia la ricorrenza rilanciando l'azione sociosanitaria. Il presidente Sadori dice se aderiscono altre amministrazioni ancora più esenzioni. Cadono dallo scooter, sempre la cronaca da Pesaro, per una buca, due feriti, è successo a Pesaro. L'altro schianto invece a Fano sulla statale adriatica. Questa è la cronaca sulle pagine del Corriere Adriatico. È sempre dalla pagina primo piano ho soccorso, mia madre appena si è sentita male. Parla il figlio di Cenza, l'anziana morta. Oggi è l'autopsia per fugare. Invece ogni dubbio. la donna infatti è morta dopo aver litigato con il figlio e quindi si indaga un po' su come siano andate esattamente le cose per appunto fugare ogni dubbio sul figlio che oggi dice ho soccorso mia madre invece appena si è sentita male. Quindi cerca di chiarire bene la sua posizione. La donna aveva 82 anni. La prima pagina invece del Corriere Adriatico la vediamo subito. I low cost sbarcano in città cantiere aperto in centro abbigliamento e cibo creeranno posti di lavoro ma le polemiche non mancano. Mentre c'è un richiamo in prima pagina di una lettera che hanno scritto i parrocchiani di Santa Veneranda a Papa Francesco per chiedere ancora una volta visto che con l'arcivescovo Coccia non gli è andata bene nel senso che la curia non torna indietro ci provano con il Papa e chiedono che Don Michele resti lì in parrocchia l'arcivescovo così come avviene in questi periodi solitamente ogni tanto ci sono dei trasferimenti di parroci ai parrocchiani di Santa Veneranda non è andata bene questo trasferimento di Don Michele. Aeroporto Senza Pace ora soffre anche il cargo in attesa del privato e dei fondi regionali il settore merci non è più il fiore all'occhiello si parla di questa fatica che fa l'aeroporto Sanzio l'aeroporto regionale di Falconara soprattutto per il settore merci. Andiamo adesso sul resto del Carlino la pagina di Fano eccola qua Aset errori che costano caro scade martedì la procedura di gara per cedere le quote i grillini sempre all'attacco in vista dell'asta perdite per un milione e mezzo e il vice sindaco Minardi fu premiato dal PD che lo portò in regione questa è la notizia principale licenziamenti all'Ungarini non c'erano altre strade lettere di protesta dei lavoratori ma i sindacati smorzano le polemiche Ronco Sambaccio l'isola ecologica diventa una discarica la denuncia pubblicata questa mattina sul giornale allora l'altra pagina nipote torna a casa dalla nonna e finisce gli arresti domiciliari dopo la denuncia non ha rispettato il divieto di avvicinamento l'anziana si sentiva minacciata anche dalla presenza di due pitbull che aveva questo giovane nipote la vicenda era finita in tribunale anche qua la notizia del denuncia dello spacciatore di droga che ha fornito la dose fatale al postino un fanese di 38 anni già noto alle forze dell'ordine sequestrata anche cocaina o le ruspe nel giardino il timore degli espropriati ma il comune rassicura faremo di tutto per voi stiamo parlando delle opere della terza corsia opere compensative parla ancora una volta Dorina Ciaschini con il fratello Ugo davanti ai loro terreni agricoli e qui invece nella fotografia vedete la zona dove verrà costruita dove verrà costruita la nuova rotatoria ok l'ultima pagina Bellucci la fusione tra comuni del Metauro mancano basi e sarebbe poco utile questo è il parere dell'esponente della lista partecipa chi ha amministrato finora ha dimostrato di non volere uniformare servizi e tariffe è tutto grazie per aver seguito Occhio ai giornali questa sera alle 20.30 come sempre c'è il nostro telegiornale Occhio alla Notizia vi ricordo che per le vostre segnalazioni che per noi sono importantissime e vi ringrazio perché davvero siete in tante ogni giorno a segnalarci veramente tutto di tutto e di più quindi continuate così il nostro numero sapete 338 49 68 250 oppure potete cercare su internet il numero della sede oppure attraverso l'email la redazione chiocciolocchio la notizia punto it e come sempre vi ricordo che le segnalazioni più più inedite quelle originali quelle esclusive verranno premiate con una ricarica telefonica di 5 euro grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie a tutti